Il vampiro di Jonesbo va a caccia su Tinder. Un serial killer alla Dracula, nella ricca e algida norvegia d'oggi, che acchiappa e strazia donne tirandole attraverso Tinder si tratta dell'ultimo giallo di Jonesbo, il miglior autore contemporaneo di thriller che ambienta il suo thriller a Oslo. E a Oslo esiste una sola soluzione, Harry Ole, il geniale investigatore con macchie, furori, ossessioni e una vocazione per la bottiglia. Così Jonesbo o Barrata, chiama all'azione il suo, antieroe nell'undicesimo romanzo di una saga ipnotica che ha conquistato il mondo ben oltre le misure tipiche del giallo nordico. Il titolo è inequivocabile, sete, in libreria con i naudi da martedì, pipì. 640, 20 euro, quella dell'omicida che pare inestinguibile. Ormai Ole ha sia abbandonato alle operazioni sul campo sia la dipendenza dall'alcol, diventando un insegnante di prestigio alla scuola di polizia, ha sposato Rachel e a quale allievo persino Oleg, il figliastro salvato da una bruttissima scivolata nell'universo impestato dall'eroina. Ma non ha fatto i conti con il suo peggior avversario, l'odioso Michael Bellman che lo ricatta per risolvere la mattanza del succhiatore di emoglobina che azzanna con una dentiera di ferro.